eh, eh, questo se è impegnativo, porca troia, però dai, se riusciamo a farlo una volta fatto bene, vaffanculo, cioè, dovremmo batterlo a meno 30-40 secondi, per stare tranquilli, possiamo farcela, eh che tu ti ho, vai è una radio a porto a cio, l'armata rossa è la nostra unica speranza, ma ci serve la frequenza giusta che culo, è una radio un po' alti però dai se abbiamo fortuna qui codici di farlo più grave, non è un po' alti però dai, se abbiamo dai, io oh, funzionerà ok, quanti ci sono? più uno vabbè vediamo io ne ho uno tu quante le hai? allora l'ultimo vai guarda teatro buono qui è asciutto il generale non derweb vado vado no no lasciamo stare non ho i moschini aspetta non prenderla non prenderla non la prender vieni a apri il aspetta aspetta voglio sapere lui è l'ultimo passa la scossa veloce la scossa proprio l'fc42 dio caro vado giù la wonder weapon 6 mi sembra bravo bravo 5 ok 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 oh dai fila l'ultimo uh c'è una scossa lì dopo la piglio va a vedere dov'è il merda mi sa che non faccio in tempo a prenderla no non ho fatto in tempo ok ce l'ho io stanno in un posto di merda ma vabbè guarda dov'è mettere la testa va al posticino per una vita porto dio qua c'è un casino che la metà basta ok vai a si ma io ho perso due dita ho perso va bene dov'è l'ultimo si ma io ho perso due dita fa la rai vado a finire l'ascia si vado a finire l'ascia vado a finire l'ascia sei andato a mettere il coltello si si vai 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 hai pagato si ma un po' alti comunque 9-15 vorrebbe la nuca qua no il coltello si ma mica tanto sono 9 50 della corsa siamo siamo lì e lì e quando siamo lì e lì sei già sicuro che non lo fai poi ho perso già due vite possiamo usare quelle freccette giganti per far scoppiare il pallone se stai attento no però a volte ora è un giù 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 per farlo finisce di killare dopo lasciami tutti i punti lasciamo tutti i punti tutti i farmeli devi lasciare però vai vai portalo buono abbiamo fatto bene qua vai vado vado kill mi ha recuperato eh eh devo cercare anche i pupazzi io quindi questa è carica cercare sti pupazzi si Sì sì, dopo cercati i cappelli Eh ma ti devi anche paga avanzare Vai vai, lo tengo io l'ultimo Vai inizia a fare i cappelli Vai, il secondo lo prendo io Vai a già mettere il terzo Il generale è sul manichino lì Il generale è il generale che non muove si, fatti un po' di heal si, sai che questo è il settimo? no, è l'ottavo, eh vieni qui che ho i punti per pacca panciarti aspetta, vabbè, fatti due kill e vai si vai vai si paro, abbiamo failato non c'ho più zombie è rimasto l'ultimo eh, il bombarolo, li ho uccisi tutti sono morti tutti eh, ma è l'ultimo abbiamo failato no, abbiamo finito abbiamo finito, non so come ma abbiamo finito buono abbiamo finito no, non ce l'ho, prendila tu, dai, la piglio dopo io vai 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 vai, fa veloce c'è proprio la nuke qui davanti madonna faccio tieni l'ultimo che culo con l'ultimo zombie no, non ce l'ho non ce l'ho sempre lunghissimo l'ultimo ho un attimo esitato si mi lascio i punti 18 e 35 vai si, perché l'ultimo codice è sempre lunghissimo e perdo un attimo si, era l'ultimo zombie proprio siamo a 19 3, 2, 1, vai non ho autoreanimazioni devo stare attentissimo non ho autoreanimazioni però tre pupazzi da usare adesso nel primo step Vai Vuoi andare prima tu con il trauma? Boh mi sa che avremo una trentina di secondi di vantaggio Comunque temere quel zombie rosso non data 8 è stato fondamentale Io pensavo che avevamo filato Vai che si accende Devo stare attento a non dare a terra Quindi spero di sparargli quando possa Puntate alla testa Andiamo di qua a tirare un po' pazzo Sì ma non funziona quanto fa Ora Bravo Paragli Spiro il po' pazzo adesso Spiro il po' pazzo adesso Spiro il po' pazzo adesso Sto sparando solo io Non so se funziona Attento attento Tiro l'altro po' pazzo Spiro il po' pazzo Spiro il trauma se puoi No no stiamo sparando tutti e due adesso Ho fatto bene abbiamo fatto benissimo Abbiamo fatto benissimo Vai 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 Giriamo giriamo Stiamo attenti a non andare a terra eh Ok E' acceso Ok E' acceso Spiro il po' pazzo No è già secondo No è già secondo Spiro il po' pazzo C'è una scossa doppia guarda Vieni di qua Allora Allora Siamo Pafferati Attra Allora Attra Abbiamo fatto Un passo Un passo Un passo aspetta giriamo un attimo qui e poi lo metti eh lo devi mettere nel mezzo quindi pronto? guarda io già lo metterai qui nel mezzo vai piazzalo ora facciamolo qui il secondo step e poi il terzo lo rifacciamo di là si più come un macello di danno aspetta ora para andiamo quanti ne hai? caricati un attimo sparando gli zombie ora in mezzo agli occhi dai si sono di qua l'ultimo step si mettiti già trama qui nel mezzo va così non rischiamo tanto sono un po' pazzo buttalo ok ora dai ti prego dimmi che ha fatto si ha fatto dai ha fatto andiamo andiamo minchia che culo eh aspetta che ci ho occupato madonna che fatica e io guarda non pensavo perché non è stata una gran partita eh perché ho perso due vite avevo perso due vite si la boss fight mi ha fatta benissimo ho perso due vite all'inizio la cazzo e anche l'ultimo zombie che era rimasto lì ho detto porco dia si abbiamo filato invece era proprio fatto bene era proprio fatto bene 27 e 27 ok io stavo registrando è salvata a posto no 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 lo fai quasi altri 30 40 secondi si si non avevo due vite infatti sono stato più attento ho giocato meglio ma guarda non avevo due dita sono stato più attento ho giocato meglio quindi cosa ti devo dire e il trauma tu l'hai messo bene perché le altre volte non lo mettevi benissimo eh si eh si perché tu hai usato il primo trauma io ho buttato il secondo non lo mettevi benissimo